La notte dell'incontro E l'anno vero al peso di 198 kg con un record imbattuto Di 40 vittorie consecutive, l'imbattibile, inarrestabile, terminatore d'acciaio Non c'è bisogno che vi dica qual è il premio palio Che abbia inizio l'incontro Ok, voglio un combattimento leale Il primo che mette a terra l'avversario vince Gli arti perduti possono essere recuperati a fine ripresa Datevi la mano e iniziate a combattere Grazie a tutti